Ecco la prima annata del 1927 di PM, il piccolo missionario. La rivista, pubblicata dai Comboniani di Verona, compie 85 anni di vita e ha fresco di stampa il numero 1000. L'evoluzione, direi, fondamentalmente parte dalla visione dell'altro, in questo nostro caso era l'Africa, l'Africa nera, quindi l'Africa selvaggia, popolata da cannibali, da persone che bisognava convertire ed evangelizzare a tutti i costi, a una cultura dei popoli, delle società portatrici di valori. Uno sguardo che è cambiato con il Concilio Vaticano II? Naturalmente sì, con gli anni 60 anche il PM evoluziona in questo senso e quindi se prima c'era una certa diffidenza nei confronti dell'altro, inteso come lo straniero, l'africano soprattutto. Poi si riesce a dialogare con questa realtà anche dal punto di vista ecclesiale. Prima c'era extra iglesia nulla salus, adesso ci si può salvare anche mettendosi nel comune impresa di migliorare il mondo, umanizzare il mondo. Attualmente PM, che si rivolge a lettori dagli 8 ai 14 anni, stampa 13.000 copie. Negli anni 60 arrivava a 100.000 ed era una vera fuccina di vocazioni. Negli anni lo stile è cambiato in un mix che tra fumetti, inserti e rubriche vuol sensibilizzare lettori alle tematiche di attualità, di povertà, di sviluppo. PM può vantare di avere dato lavoro a un centinaio di disegnatori e anche a 50 personaggi. Tra i più importanti ricorderò Iacovitti, che è stato uno tra i primi, Alfredo Brasioli, che tuttora è in attività, Carlo Peroni, il padre di Nero Fumo, Alberto Simeone, il padre di Gigi Tex, Luigi Eldegheri di Verona, Claudio Biglignoli di Verona, alcuni altri veronesi che sono diventati dei fumettisti importanti, tipo Paolo Baciglieri, Silvia Zicche di Breganze. Dagli anni 80 si è affiancato a PM Mondiario, il diario che quest'anno è dedicato all'energia sostenibile. La rivista, da sempre aperta e impegnata a sostenere posizioni a volte criticate, organizza anche laboratori per le scuole. Per festeggiare il millesimo numero e gli 85 anni di attività, sarà possibile visitare fino al 31 ottobre due mostre alla Biblioteca Civica di Verona, Mille Piccoli Sguardi e Vado a Mille.